host 2019 ci troviamo allo stand della balugani srl un'azienda emiliana che si occupa di sistemi per la filtrazione la depurazione dell'acqua oggi ben rappresentata dal suo amministratore delegato fabrizio balugani buongiorno fabrizio e bentornato buongiorno buongiorno a lei grazie fabrizio cosa presentate in questa quarantunesima edizione di host quill 2019 beh quest'anno presentiamo gli erogatori d'acqua con microfiltrazione e presentiamo un nuovo adolcitore chiamato bsa molto semplice per il settore oreca quali le caratteristiche dell'uno e dell'altro come si chiama beh l'erogatore d'acqua l'abbiamo chiamato bea balugani erogatore acqua ed è un innovativo per questo settore perché andiamo su in un momento che dobbiamo pensare alla all'ambiente eliminare normalmente le plastiche e perciò l'erogatore d'acqua aiuta aiuta sicuramente questo 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 in questo momento è molto importante ed è una macchina dedicata alla ristorazione e al bar quindi è destinata ai pubblici esercizi in di ogni tipo e forma tutti quelli che eseguono somministrazione certamente è dedicata soprattutto ai pubblici esercizi questa macchina può essere sicuramente vincente sia per il pubblico esercizio che per altre attività sia attività sportive come palestre e anche mense perciò comunque là dove c'è veramente bisogno della bottiglia dell'acqua si può adoperare il nostro erogatore d'acqua parliamo invece del bsa il filtro che avete presentato qui si abbiamo presentato un piccolo addolcitore dedicato proprio al mondo del caffè per aiutare soprattutto il piccolo il piccolo esercizio e investire meno denaro e ovviamente diciamo per eliminare tanta plastica usa getta oggi sul mercato ci sono parecchie cartucce che alla fine della sua vita devono essere gettate quelle esauste quelle esauste noi invece in questo caso abbiamo creato un piccolo addolcitore che si rigenera automaticamente e allora per tutti coloro che desiderano avere maggiori informazioni e per il bsa e per la macchina erogatrice di acqua purificata o meglio depurata qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere per chiedere maggiori informazioni appunto senza alcun impegno e l'indirizzo di posta elettronica è info chiocciola balugani srl punto it fabrizio grazie e grazie a lei e alla prossima volta viva balugani srl grazie mille grazie a voi alla prossima edizione grazie a tutti